Le conoscenze in azienda, sicurezza, formazione ed informazione aziendale. Il nostro terzo approfondimento è quello sulle conoscenze indispensabili in un'azienda. La scorsa settimana, come si ricorderà, abbiamo parlato di sicurezza sul lavoro in aziende, in ufficio oppure in un cantiere. L'ingegner Giovanni D'Ambrosio, manager della GEISA, società specializzata nella consulenza delle aziende in materia di sicurezza sul lavoro, è entrato nelle pieghe del decreto legislativo 81 del 2008 che ha rinormato gli obblighi delle aziende ed ha spiegato quali sono i responsabili della sicurezza sia dalla parte dell'azienda che dalla parte dei lavoratori. Oggi parliamo di formazione in azienda, con noi Marco Baione, manager della Jobiz Formazione, ente di formazione accreditato alla regione Campania e soprattutto società di consulenza di aziende che vogliono accedere ai fondi interprofessionali per finanziare, per farsi finanziare i corsi della formazione per il personale interno. Dottor Baione, forse proprio in questi momenti di crisi la formazione si rivela una leva straordinaria di contrasto alle difficoltà del momento. È ovvio che in un momento di crisi un imprenditore fa delle valutazioni e laddove c'è da risparmiare, risparmia sugli asset importanti e con un po' più di cinismo adotta degli strumenti che possono essere di congelamento momentaneo rispetto a quelli che sono gli asset con una qualità del lavoro professionale meno spiccata, meno approfondita. La formazione è sicuramente un elemento preventivo per evitare che ci sia la scelta di un taglio verso gli uni piuttosto che verso gli altri, ovvero la distribuzione del capitale umano interno in bravi e meno bravi. La formazione interviene anche nel momento di crisi perché consente di recuperare quel gap formativo di aggiornamento professionale, tecnico, manageriale che era utile prima e che in questo momento diventa indispensabile focalizzare l'attenzione su quello per poter riprendere in una maniera adeguata. Diciamo che la crisi in questo momento ha consentito a tanti di fare un esame di coscienza, riuscire a impostare le basi di nuovi sistemi all'interno delle aziende che premino sicuramente di più il merito, la capacità e quanto appartiene al background del nostro capitale umano, piuttosto che altri sistemi che possono non essere poi redditizi a lunga scadenza. Quindi formazione arma straordinaria, di straordinaria efficacia, ma con i suoi costi e le aziende potrebbero rinunciarvi tagliando proprio questo costo, quello della formazione. In questi casi, come accennavamo prima, quale alternativa hanno le aziende? In alternativa, dal 2004 ormai si sono costituiti in Italia fondi interprofessionali delle organizzazioni associative tra parti datoriali e parti sindacali che consentono alle aziende di utilizzare dei fondi rispetto a quanto si versa come contributi all'Inps per il proprio personale dipendente e naturalmente questi fondi vengono gestiti in funzione dell'esigenza delle singole aziende o in funzione dell'esigenza dei territori o in funzione delle aspirazioni, ambizioni delle aziende che intendono investire sul capitale per una prospettiva realmente valida oggi, 2010, mercato globale e quindi la competitività non si misura con l'azienda che sta a pochi metri da casa nostra ma si misura con l'azienda che sta dall'altra parte del mondo. La formazione alla fine diventa un elemento trainante per risollevarsi dal momento di crisi, un elemento a supporto per accompagnare le aziende che ce la stanno facendo e che vogliono migliorare è un elemento cardine comunque all'interno dello sviluppo di un gruppo di persone che lavorano per un unico obiettivo, quello dell'imprenditore.